scendi dalla moto guarda lui dove sbaglia gli rubi passaggi dove sbaglia no scendi e guarda dove sbaglia quello davanti fatti balosso cazzo tutto gli devo spiegare alle gare figaro devi guardare un casino quello che è davanti a te che se sbaglia la tua è diversa vabbè adesso fai questa qua tu devi fare l'hard che cazzo fai questa loro devono fare i pesi sì dai non si incrocia neanche alla fine bravo bravo bravissimo esci dal base dell'ino o le guarda che la falle le adesso minchia ste scarpe di merda o ci vuole l'ho detto la chicco dovremmo portarli qua un fanti con garelli e fa e no scuola impari i pesi e non imparano perché la moto la va su stessa cazzo la moto va su uguale con queste qui cazzo gli spiega e ma sono passato e guarda lui va di dietro guarda dove sbaglia i passaggi dove sbaglia le gare di guardare quello davanti a te dove sbaglia lui non sbagli tu cazzo poi non la capiscono è una caga è una cagata eppure non la fanno no no non c'è verso o non c'è verso non parte lui che gli ho detto non andargli dietro ma devi proprio metterli giù e queste cose quasi parte il peso cazzo delle cose non le fanno figaro non le fanno poi ti trovi le cavalli vado le cavalli che cazzo vai a fare vai a ruggiare basta figaro guarda non hai le basi e che cacchio peso spalla hai girato spalla così cazzo gira culo fuori e spalla diritte le spalle come il manubrio dove gira il manubrio girano le spalle glielo stavo spiegando alla mia nipotina in bicicletta che gli scappo io da quando giri il manubrio giri tutta la spalla figaro ok guardalo guardalo la cosa hai fatto forcelle gas quella è lard no ma non c'è il peso non c'è un cazzo stamattina zero cioè figaro ma usa la normale ma fregatene cazzo esci e la guidi normale dove cannale è pace figaro sei su che sei un secco cioè cazzo non ti muovi cacchio no la tua è diversa dalla loro che ci fai da loro allora è entrata uguale come lui in mezzo in mezzo in mezzo ci passi senza toccare le pedivelle oh ok in mezzo me la sento pure viene girare dietro ritorni dove escono loro e vai dietro ti fai il tuo ostacolino abbastanza stretta senza allargarla un chilometro sasso sasso la chiudi giù stretta aspetta eh era sasso stretta a scendere ed era loro fanno così avanti là voi fate questo li ritrovate uguale sas tronchetto e uscita subito uscita da sasso no esci direttamente a me sembra più difficile fare così e poi girarla fuori che non andare là è perché la butti sulla riga e poi più facile sulla riga così eh no se la butti là e poi esci eh no si